Mobilitazione del corpo dei Vigili del Fuoco, domani manifestazione a Roma e poi quattro giornate di sciopero proclamate da CGL, CIS, Will e Comsal, garantiti i soccorsi urgenti alla popolazione. Il servizio è di Pierpaolo Rivalda. Chiedono più dignità ai Vigili del Fuoco che proclamano quattro giornate di sciopero il 21 novembre e il 2, 12 e 21 dicembre. Domani, in occasione della manifestazione nazionale in piazza Montecitorio a Roma, ci saranno anche due presidi nelle Marche davanti alle prefetture di Pesaro e Macerata. Le ragioni della mobilitazione legate alla mancanza di risorse per il corpo nella legge di bilancio. Anche dal punto di vista del tributivo noi chiediamo semplicemente di essere parificati alle altre forze dell'ordine, niente di più, niente di meno. Ci sembra una richiesta piuttosto normale ma che in qualche modo sembra impossibile da parte della politica recepire. Non capiamo il motivo, visto che, ripeto, ogni volta il corpo nazionale viene usato dalla politica per quello che fa, per quello che svolge, per come si comporta e per la risposta importante che dà sul territorio nazionale. Ma purtroppo poi la politica con i fatti non segue le parole che ci dice. Una delle cose che rende più difficile il vostro lavoro è la carenza, sia di personale che di mezzi. Sì, purtroppo ormai è una cosa che va avanti da anni. Non si rinforza il personale con nuovi ingressi e la carenza è cronica del 7-8% a livello nazionale. Purtroppo ogni volta si mette a rischio il soccorso. In vari comandi si rischia di chiudere distaccamenti, magari quelli meno importanti. Si mette a rischio la popolazione che non dovrebbe esistere, popolazione di serie A o serie B. Chiedete anche più tutela, incidenti sul lavoro, malattie professionali, non vi sentite tutelati? No, assolutamente no, perché ad oggi noi Vigili del Fuoco non abbiamo una copertura da parte dell'Inail. E questo poi ci porta a pagare noi le spese per quanto riguarda gli eventuali infortuni e quindi di metterceli di tasca nostra. E poi eventualmente in un futuro se ci viene rimborsato il tutto.